Musica E' un piano dell'offerta formativa assai variegato, quello proposto da Euroform, istituto superiore, scuola professionale dei mestieri che opera a sciacca da sette anni. Per gli studenti delle terze medie sono tante le opportunità offerte dall'istituto di Vicolo Valverde attraverso i vari indirizzi di studio. Operatore del benessere, operatore nel settore della trasformazione agroalimentare, della ristorazione ed ancora riparazione di veicoli a motore, manutenzione di imbarcazioni da diporto, elettricista, operatore nel settore dell'abbigliamento, operatore nelle lavorazioni artistiche. Questi sono solo alcuni dei percorsi scolastici che è possibile scegliere e al termine dei quali si consegue il diploma di tecnico nei diversi settori. Euroform è una scuola, è una scuola dei mestieri, è una validissima alternativa ai percorsi tradizionali ed è una scuola che si sceglie dopo il primo ciclo di istruzione, quindi dopo la scuola media. L'alunno frequentando Euroform fa un percorso di istruzione e formazione professionale, sono stati istituiti dalla regione, vengono chiamati IFP e significa proprio questo. Quindi istruzione perché qui si studiano tutte le materie che si fanno nelle altre scuole, quindi l'italiano, la matematica, le lingue, tutte le materie base, in più vengono fatte le materie tecniche professionali che sono quelle che ti indirizzano verso un mestiere. Perché scegliere Euroform? Quale opportunità offre ai ragazzi questa scuola al termine dei quattro anni? Perché Euroform permette ai ragazzi di assolvere l'obbligo scolastico, quindi conseguire un diploma che è un diploma tecnico di quattro anni, ma permette anche l'inserimento nel mondo del lavoro attraverso delle professioni, professioni che sono certificate e indicate nel repertorio della regione siciliana. Il ragazzo che sceglie Euroform può scegliere tra 22 figure professionali, acquisire un mestiere e acquisire le competenze necessarie soprattutto per poter esercitare poi questo mestiere dopo i quattro anni. Quindi un diploma ma anche un mestiere perché insieme al diploma si consegue l'abilitazione professionale per l'esercizio del mestiere. Quali sono i percorsi più gettonati? Tra i ragazzi sicuramente va tantissimo l'operatore del benessere. Molte ragazze ma anche ragazzi scelgono di fare l'accongiatore e l'estetista. Questo percorso permette ai ragazzi qualora volessero formarsi in estetica nel campo del benessere di acquisire competenze che daranno loro la possibilità di poter sviluppare la loro vita, la loro attività. Effettuiamo dei corsi inerenti ai trattamenti viso, il massaggio, la manicure, la ricostruzione e diamo loro competenze nella nostra totalità. Mettiamo a disposizione le nostre conoscenze inerenti ai settori di epilazione. Possono effettuare tutti i trattamenti che permetteranno di svolgere questa professione nel migliore dei modi. Ma ci sono professioni molto importanti e molto valide che oggi un ragazzo può benissimo scegliere e può spendere benissimo nel mondo del lavoro. Uno di questo potrebbe essere l'operatore delle lavorazioni artistiche. Ricordiamo inoltre che Euroform in tutti i suoi percorsi permette ai ragazzi di primo anno di studiare tutte le varie discipline con l'asilio degli iPad che da quest'anno Euroform ha dato e darà ai ragazzi che si iscrivono e scelgono Euroform. Come tutte le altre materie è presente anche l'informatica. Ci sono diverse ore che dovrebbero servire in qualche modo a aiutare i ragazzi a utilizzare i nuovi strumenti che ci sono oggi a disposizione per svolgere anche la propria attività poi quando usciranno da questa scuola. proprio a proposito di questo quest'anno l'Euroform ha adottato l'utilizzo di tablet per tutti gli iscritti al primo anno. Questo tablet è utilizzato non soltanto per l'informatica ma per tutte le materie in modo da rendere l'apprendimento anche qualcosa di più interessante, più interattivo e che coinvolge in maniera migliore i ragazzi. Noi da sette anni presenti a Sciacca lavoriamo molto bene con l'operatore del benessere però Euroform è anche altro. L'operatore delle lavorazioni artistiche per esempio è un percorso molto interessante perché include due indirizzi l'orafo, il gioielliere e anche lavorazioni artistiche intese come lavorazioni della ceramica e della resina, della cartapesta quindi potrebbe essere una cosa molto bella a Sciacca, proprio Sciacca è la città del carnevale quindi perché no questo sarebbe un percorso molto bello. Questa scuola dura quattro anni, è un percorso di quattro anni, al termine del terzo anno l'alunno consegue la qualifica, è un livello EQF3, al termine del quarto anno consegue un diploma tecnico, livello EQF4, sono riconosciuti in tutta l'Europa, sono percorsi gratuiti, il ragazzo non deve pagare nulla, vengono messi a disposizione dell'alunno tutto il materiale e anche da quest'anno anche gli iPad che sono degli strumenti per rendere la didattica più innovativa. iPad che poi diventeranno, al termine del secondo anno, diventeranno di proprietà dell'alunno stesso. Adesso all'interno di questa scuola ci sono anche i laboratori dove viene svolta gran parte dell'attività didattica. Sì, il ragazzo di primo anno che segue e studia l'Euroforma, oltre le materie, le competenze di base e le materie obbligatorie per legge, andrà a fare pratica presso i nostri laboratori mentre dal secondo anno in poi ci sarà lo stage presso aziende esterne convenzionate con Euroforma e che permettono proprio direttamente al ragazzo di inserirsi e di fare esperienza proprio nelle aziende, nel mondo del lavoro. Possiamo dire che è una scuola che al termine dei quattro anni offre la possibilità di imparare un mestiere a tutti gli effetti? Certamente, è una scuola che dà la possibilità di non solo di imparare un mestiere ma anche di inserire l'alunno nel mondo del lavoro. Ricordiamo che già dal secondo anno i ragazzi vengono inseriti tramite gli stage con aziende convenzionate con Euroforma, vengono inseriti direttamente nel mondo del lavoro e quindi al termine del quarto anno con qualifica e diploma tecnico non solo si inseriscono nel mondo del lavoro ma possono aprire direttamente l'attività, la propria attività. Siamo in piena campagna iscrizioni, gli interessati cosa devono fare? Possono venire benissimo a iscriversi qui senza nessun problema oppure possono farlo direttamente online sul sito del MIUR. Grazie a tutti.